Siamo riunite dopo questa prima sconfitta che è arrivata domenica a Olbia. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, nel senso che per la prima volta abbiamo trovato di fronte a noi una squadra che era molto organizzata, ha espresso un buon gioco, quindi secondo me ha giocato molto bene. Noi siamo stati un po' sotto la nostra soglia solita, che comunque non è ancora quella massima. Non bisogna fare una tragedia per questo risultato perché comunque siamo ancora all'inizio, però l'importante è capire dove dobbiamo lavorare e dove dobbiamo migliorare, assolutamente non sbagliare più. Tutte le partite saranno delle battaglie, nel senso che ci sono delle squadre che sono state costruite con degli obiettivi, quindi che sia la promozione o la salvezza non importa perché sono comunque tutte squadre che difendono molto e che cercano di portare via punti contro tutte le squadre con cui giocano, quindi dovremmo stare molto attente perché è una squadra che gioca bene, però noi abbiamo il fattore campo che dobbiamo cominciare a sfruttare un po' meglio, quindi niente concentrate, sappiamo che ci aspettano tre partite in una settimana che saranno toste, però siamo consapevoli che i nostri punti in qualche modo dobbiamo portarli a casa.